lupatona di lucas assist per marcus al ferro sta volta carta prende la città assegno brown di ovara su di lui sfidato da brown penetra centro perno arresto tiro da due palla ribaltata su katzlauskas pick and roll con maveris fa sinistra lucas cazza parlegio il tempo di maveris con katzlauskas tripla del nostro 12 guida il contropiede non c'è superiorità quindi aspetta poi riaccelera dal ferro conclude formica in post basso arriva marco sconfoga formica tenta di girarsi al perno mano sinistra braun da tre assegno data pick and roll di baldin c'è l'aiuto di braun da tre buia dal gomito sinistro lo stile serbo dalla punta mavi servito per la tripla che deve entrare deve entrare palla per maveris stavolta la lupo riesce perfettamente brown con formica in punta sienti che rollo fra mafrica e katzlauskas palla lucas si sposta in punta penetra con la mano destra si arresta serve chidiatti che prende l'iniziativa di penetrare e mette due punti di reazione d'orgoglio del capitale razzis si arresta e tira da tre esecuzione perfetta di sala razzis canta segue rujana zblocca katzlauska si arresta da due eccolo qua razzis batte chiriatti va dentro il pallo lungas penetra forte a sinistra con la polizia non produttivo palleggio forte a terra che dice io vado al ferro braun post passo ma però la canestra mette palla per terra prova ad arrestarsi passo 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 l'intoccio e produttiva la terra scatta scippato da lucas braun a sfacciare canestro katzlauskas batte gatta sotto canestro per braun verticale o l'otto usa il perno fino alla fine un'altra rubata un altro tamponamento su formita e katzlauska altri due ottenuzzi 6 3 5 6 alla settimana prossima buona serata a tutti